Colpo esterno del Frosinone che vince a Benevento, conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato ed entra in piena zona playoff. Gara equilibrata con gli ospiti pericolosissimi nel primo tempo, ma trovato si supera sul sinistro ravvicinato di Honda. Il parziale si sblocca d'inizio ripresa, dopo sette minuti discesa sulla destra di De Rose e conclusione vincente di Pietro Lungo, Benevento in vantaggio. Reazione immediata del Frosinone gioiello balistico di Obleac che con una conclusione beffarda sorprende dalla distanza Carriero e firma il gol del pareggio. I giallazzurri di Marsella insistono ed è il bomber Luciani in contropiede a realizzare il gol del sorpasso. In pieno recupero chiude i giochi Vitalucci, Frosinone 3, Benevento 1, sabato sfida in trasferta al Crotone.